ma che cazzo che roba ma guarda te che roba sta succedendo praticamente tanto lavoro per niente ma scusate scusa posso posso un attimo so proprio governo ma questi fanno ridere i polli sapevate da più di un anno che ci sarebbe stato sto centro migranti in Albania ma arrivano i migranti ci sono i migranti veramente torni l'italia subito no 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 non si può accettare adesso ma pensa che buffoni da l'ala z madonna sante davvero lo penso pure io ora dai sono contro la giustizia in generale ma come prima anche quando c'era la sinistra al potere non è che vi crediate chissà cosa solo e più passa il tempo più ci sono queste situazioni è più chiaro ti fai due domande ma porca miseria oh ma porco giuda a bestia a voi in alto insieme per i 100.000 iscritti è sempre a bestia attivate qua sotto la campanella per ogni aggiornamento mi raccomando grazie di cuore ma super grazie a ognuno di voi che lascerete magari appunto un super grazie sotto al video oh mi raccomando eh non io do niente per niente volete vi saluti bene volete faccio un video che vogliate voi ditemelo appunto per i mail o anche nella sezione commenti tramite appunto il super grazie adesso signori e signori il tribunale di roma della sezione migranti ha me messo una sentenza ufficiale che i migranti arrivati in albania non sono regolari quindi devono tornare subito in italia non devono stare là cioè i primi migranti arrivati in albania ricordiamo che questo 100 migranti nasce per un aiuto da parte degli albanesi nei nostri confronti ci hanno dato la loro terra abbiamo pagato quello che abbiamo noi perché sono nostri soldi abbiamo pagato e quindi vediamo che cosa succederà ma adesso che cosa fanno noi migranti non devono stare in albania vengano in italia immediatamente ma questi sommati ma sono scemi proprio ma questo è proprio follia ministro piante dosi ha dichiarato beh ragazzi tu sta in piedi ragazzi eh la situazione è la seguente l'ha detto a piazza pulita eh la situazione è questa qua è vero però noi ricorreremo addirittura in cassazione non lasci cioè non ci impediscono ogni volta questi di lavorare porca miseria e che facciamo gli diamo le frustate sti ragazzi cosa mi fa incazzare a me è che quando arrivano i conti sempre poi si presentano proprio all'italiana cioè anziché dire ma che non non è che dire qualcosa si presentano all'ultimo perché cosa non si aspettavano davvero che arrivassemo migranti in albania ma che si credevano questi qui ma fatemi piacere buffoni che non siete altro ditemi la vostra nei commenti dai dai non sono pro centrodestra o pro questo governo ma figa questa è una buffonata reale grazie a tutti